Ciao ragazzi, bentornati, buon sabato a tutti quanti voi e buon weekend ancora, siamo nel bel mezzo del weekend, quindi vi auguro veramente il meglio. Di cosa dobbiamo parlare in questo video? Insomma il classico spiedino di notizie, più strati, più cose da dire, più cose da commentare, lo facciamo insieme, ovviamente legate alla Juventus, tra curiosità, tra cose che cambieranno a breve, tra situazioni da analizzare in vista della partita, insomma diverse cose e diversi aggiornamenti anche legati ai giocatori che potranno essere convocati per questa partita con l'Atalanta. Quindi bentornati, vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto è importante, forza e coraggio. Intanto io vi dico che faccio non poca fatica veramente a trovare argomenti interessanti per quanto riguarda la Juve con delle settimane così dilattate, con delle tempistiche tra una partita e l'altra così lunghe, così lunghe, così lunghe, veramente non se ne può più ed è per questo che vi annuncio già che la settimana prossima inizierò a streamare sull'altra piattaforma e andremo a fare reaction a video, andremo un po' a vedere highlights di altre partite e un po' di GTRP che sto portando già da un po' per fatti miei, quindi vi farò conoscere il mio personaggio eccetera eccetera, quindi un po' di gaming, un po' di reaction, un po' di cazzeggio oltre ovviamente i contenuti della Juve, questo per ammazzare un pochettino i termini, ammazzare il tempo perché è una gran rottura di scatole l'assenza di Juventus durante la settimana, per cui questo è, ma torniamo a noi e parliamo del resto. Allora, la prima notizia, la prima curiosità è legata al mondo Exor, cioè ce ne sono due in realtà sul mondo Exor la Jeep, che è il main sponsor della Juve, avete visto qua, con l'assenza della Juve per quanto riguarda le coppe europee ha avuto una cifra tagliata per quest'anno di sponsorizzazione, quindi dei 45 milioni si è passati ai 38 milioni che non sono pochi, avete visto il danno che ha causato quella benedetta penalizzazione eccetera eccetera sta roba qua, dai 45 ai 38 milioni, per la sponsorizzazione verrà divisa da gioco perché appunto non abbiamo giocato le coppe europee nella stagione in corso, quindi questo è... ora vediamo poi cosa succederà per quanto riguarda il nuovo sponsor sarà uno sponsor della famiglia Exor o no? o sarà un qualcosa di esterno? non lo so, però un'altra curiosità la quota di controllo di Exor sulla Juve potrebbe salire al 72% fino al 72% grazie all'aumento anche di capitale fatto da 200 milioni che partirà nei prossimi giorni, per cui anche questo è un aspetto da tenere in considerazione e da tenere in considerazione anche il futuro del main sponsor, ripeto, sarà un qualcosa da dentro o Exor o qualcosa da fuori questa è la curiosità principale che credo noi tutti abbiamo altra cosa, vi ricordo che Allegri parlerà alle 14, dopodiché ci fare il classico video dove analizzere un po' di cose un po' le sue parole, le sue opinioni ecco su questa partita, le novità, gli aggiornamenti sono curioso eh per quanto riguarda le novità della partita, è una partita molto delicata la fortuna vuole che il Napoli si sia inguagliato anche col Toro e adesso è una distanza abbastanza siderale il Napoli è, il Napoli in questo momento, il Napoli calcio guardando la classifica con la Juve con una partita in meno sta a 13 punti in meno ragazzi basta che la Juventus vinca ed è di nuovo a più 3, c'è una distanza enorme, enorme andrebbe di nuovo a più 16 quindi importante vincere con l'Atalanta anche perché l'Atalanta è sesta loro vengono a due sconfitte di fila ecco fargli continuare sto periodo o no, non sarebbe male perché li teniamo a debita distanza e via alla fine Inter, Juve, Milan, Bologna e Roma sono quelle squadre che stanno tenendo botta ce ne faremo una ragione per importante vincere per quanto riguarda invece la partita con l'Atalanta c'è a quanto pare la possibilità di convocare McKennie anzitempo che ha svolto nella giornata di ieri una parte dell'allenamento insieme al gruppo quindi questo è importante per l'americano ci sarebbe l'opportunità quindi di questa convocazione non la titolarità, scordatevelo ma potrebbe magari entrare la partita in corso perché no, altra cosa sta rientrando a marzo dopo agosto, stembre, ottobre, novembre, dicembre gennaio, Brian dopo otto mesi dopo otto mesi Mattia Desciglio probabilmente verrà convocato per la prossima non per questa ma si sta allenando col gruppo anche qua io non so chi si abballenata l'idea in testa di rinnovarlo ma dettagli dettagli non so di chi sia stata la volontà del rinnovo non mi esprimo sto muto sto muto altra roba per quanto riguarda invece la questione Felipe Anderson di chiacchiericci negli ultimi giorni ne quanto pare ha detto no a una ricchissima offerta dell'Arabia Saudita per cui sul tavolo del giocatore c'è l'offerta della Juve che non è quanto lui vorrebbe a quanto pare è un peggio o meno ma è abbastanza allettante il prossimo incontro dovrebbe arrivare verso Pasqua quindi a fine mese sembra uh Pasqua è lontanissima no no cazzo è a fine marzo quest'anno cade un pelo anticipato e ce ne facciamo una ragione e quindi questo è queste sono le notizie principali principali della Juventus c'è poca roba ragazzi c'è poca roba e basta vedere i giornali che stanno lì a parlare di Cup Mainers che io vi dico la mia su Cup Mainers bel giocatore con Allegri sarebbe secondo me un giocatore splendido analechia un po' in campo ti fa tante cose belle interessanti vuoi parlare con un altro allenatore andare su altri su altri obiettivi di mercato molto più economici molto più economici molto più plasmabili molto più non lo so non mi convince a me Cup Mainers poi tanti di voi dicono una cosa eh ma dall'Atalanta no non è questione di quello perché non è neanche un giocatore da sistema Cup Mainers è un po' anarchico rispetto al classico giocatore dell'Atalanta che abbiamo visto in passato che non ha funzionato in altri contesti questo è un giocatore molto più estroso però anche molto più anarchico a volte anche discontinuo non solo da partita in partita ma nell'arco della partita stessa però se ne parla sempre in maniera insistita la cosa che mi ha fatto piacere però è l'apertura del tutto sport a un futuro senza Max Allegri e oggi si parla anche di Motta di Palladino e di Tudor che sarebbero i tre indiziati per raccogliere il testimone di Massimiliano Allegri da Juventus e portare la Juve verso una nuova strada una nuova via quindi questo è avete visto adesso anche i giornali iniziano un po' prima puntavano Allegri non a colpa Allegri rinnovo eccetera mi pare che anche sul punto dal punto di vista mediatico questa cosa abbia un po' perso no? di valore di valore quindi vediamo un po' il proseguo di questa stagione fatto sta che ci vediamo più tardi per cui io vi do un consiglio se non siete iscritti ragazzi iscrivetevi comunque al canale sostenete il canale adesso ci aspettano le partite toste anche se durante la settimana c'è poco o nulla ma nel fine settimana ovviamente i contenuti sono ricchissimi qua all'interno di questo canale di questo contenitore quindi continuate ad iscrivervi e commentate 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 partecipate attivamente c'è anche un gruppo telegram poi a breve partono le live su twitch quindi ci può cazzeggiare in libertà ragazzi con molta serenità che andrò credo in live spesso pomeriggio e notte o magari solo il pomeriggio un po' dipende dalle situazioni ok ciao belli e sempre fino alla fine forza juve ciao